Piove? Sei meteorologo tu? No, ma si vede da occhio nudo. L'hai trovato su Google? Ma scusa, basta guardare la pioggia che scende, sta cadendo. C'è uno studio approvato che sostiene la tua teoria? Ma quale teoria? C'è i vestiti insuppati. Ok, ma non significa per forza che piove? Non significa per forza che piova? Su quale fonti ti basi? Oh, ma quali fonti? Io ho un amico che lavora al servizio meteorologico dell'aeronautica e ha detto che oggi non avrebbe piovuto. E se sarà sbagliato? Sì, certo. Vuoi sapere tu sulla pioggia che lui che ha studiato dieci anni gli eventi atmosferici? Parli così perché sei un non meteo. Ma che dici? Ma vuoi dircelo grigio l'acqua che sta scendendo? Sta a cascare l'acqua ora? Sì, vabbè, complottista. Carina, eh? È così, eh? Credibilità alta. Ripeto, credibilità alta. Roger. Grazie.